Direi che forse la donna ha un desiderio che aumenta con una cultura che glielo impedisce e gli uomini invece hanno un desiderio più culturalmente attollerato ma magari sono anche fisicamente più vulnerabili. Professor Ceccato, lei cosa dice? Perché la società ha questo atteggiamento su questo problema? Ma io non so se abbia questo atteggiamento. Vedi, io ho sempre detto e ripetuto che la felicità non è un dono, è un compito. E non solo è un compito, ma non è mai in ciò che si è e in ciò che si ha, ma è un problema di rapporto. Se mi muto un termine deve mutare anche l'altro termine, la gioia di un bicchiere d'acqua per chi ha sete. E quindi io penso che queste due persone che si incontrano, magari provate da una certa solitudine, vissuta male perché dice Leonardo, chi è solo è tutto per sé, beata solitudo, sola beatitudo. Chi invece mentalmente compie l'errore di crearci un vuoto in questa solitudine cerca poi di riempirlo e lo riempie come? Ma in questa esplosione, in questo sogno di accopiarsi, di vivere, di tremare, ti divoro con gli occhi. E poi invece diventa molto protettiva la cosa, io lo vedo su di me. Io ho tanti amici e amiche intorno. Lei è innamorato? No, direi di no, direi di no, ma se riesco a volere molto ma molto bene, ma è un bene un pochino diverso, è anche il motivo per cui una persona della mia età si rivolge a persone molto molto giovani, ma non è per un fatto sessuale. Certo che aiuta, qualche anno di meno aiuta, ma è proprio perché è possibile essere protettiva. Lei è maschilista, caro professore, voglio subito accusarla di maschilismo. Di maschilismo, perché? Perché non trovo giusto che un uomo di una certa età, della terza età, si rivolga alle sue attenzioni o i suoi sentimenti verso una donna troppo più giovane di lui. Anzitutto c'è una componente estetica che è molto forte, in me almeno è molto forte. Poi mi ero fatto una legge che la media deve sempre dare 60 anni. Adesso sono stato costretto a correggere un po' con un K piacere, ma insomma mi ha aiutato per molti anni. Sì, ma lei non pensa mai che però questa signora o questa signorina molto più giovane di lei la veda, che lei ha un pochino, non so, un po' di rughe, capelli bianchi. Si tratta di innamorarsi delle rughe, sa, non è mica difficile. Io vedo il mio amico, il professor Cesare Musati, lui il suo successo ce l'ha, non c'è dubbio, qualche ruga più di me ce l'ha. Con le donne giovani? Eh sì, ha sempre avuta. Poi guarda l'insegnante ha un suo fascino, io ho insegnato a migliaia di persone, segno anche i vigili urbani, ma ottengo più successo quando insegnano le ragazze. Io vorrei chiedere subito a professor Pasini, psichiatra, ma non c'è un po' di complesso edipico in una donna giovane che si innamora di un signore anziano? Eh sì, ma se le piace così, perché no? Il titolo della trasmissione è il diritto alla felicità. Certo, per carità. Quindi se cominciamo a mettere sì, felicità, però se in quest'età sì, se c'è un po' di edipo. Guarda se signora, che ogni volta che tu compari in quel voglio lì e compari sorridente, donna, giustamente, o cavalier dolente, vostra malinconia non vale niente, è d'annunzio. Ma quando tu compari con un sorriso, con una parola, il numero di persone che ti scrivono, e sono spesse volte studentesse liceali, quella che dici, io non vorrei sposarmi, però quello lì, zio, quello lì lo sposerei, e sarei io, mi tiro indietro sempre che sono una persona che vorrei. Va bene, professor Ceccato, senti, lasciamo perdere le ragazzine, vediamoci un altro filmato invece di persone anziane e saggiamente insieme, che si trovano, si incontrano e si amano. Ecco, questi due anziani che si prendono per mano, credo che siano l'immagine più bella che abbiamo sentito fino adesso. Io vorrei sentire la signora Serrato. Signora Serrato, quando un anziano o una signora anziana, dopo il 65, così, vengono da lei, cosa le chiedono? Beh, dobbiamo considerare che la mia organizzazione è matrimoniale, ossia il nostro scopo è quello di creare delle famiglie, ragioni per cui, quando viene una persona meravigliosa come il professor Ceccato, che però desidera una donna molto giovane, è chiaro che è una persona che non cerca il matrimonio. Professor Ceccato, lei oggi è spuntata. No, no, scusi, intendo dire che la persona di una certa età che chiede la persona molto giovane cerca tutto tranne che il vero matrimonio. La persona anziana che vuole veramente proseguire la vita sulle tradizioni, in fondo, che ha avuto dall'inizio, sia le abitudini di avere una moglie, una compagna, con la quale dividere momenti belli e buoni, in genere cerca, non dico una coetanea, però Massimo chiede cinque anni meno, ecco, non di più. E a questo proposito, appunto, mi riferisco a quel signore di 95 anni, venne un iscritto... Un signore che è apparso su tutti i giornali d'Italia, perché ha 95 anni... Decisamente un uomo affascinante. Un cliente dell'istituto della signora Serrati. Affascinante, mi creda. Io ho 44 anni, ma io mi sarei innamorata anche di quell'uomo. Di questo signore di 95. Affascinante, guardi, mi creda. Un vero gentiluomo, un uomo che ti fa il bacio a mano, romantico, dolce. E quando è venuto da lei cosa le ha chiesto? Ecco, mi fece solo sorridere quando disse, vorrei una donna non troppo anziana, massimo 80. E questo mi fece sorridere tanto, perché per me 80 erano 80. Come sono ceccato. E lei cosa ne dice a questa cosa? Lei oggi rappresenta la società, la società che rifiuta, la società che è legata all'asterotipo di un uomo anziano e di una donna giovane. Lei è sul banco degli imputati. No, no, ma se si prendono le anziane, a me va benissimo, per carità. Basta che le prendono gli altri. Sì, ma io poi riesco a ridere di tutto. Penso, per esempio, siamo là musicisti. E quello che dice, torna a mia dire, torna a mia dire, che è mami. Come hai detto? Dice, come hai detto sempre. Torna a mia dire, torna a mia dire, che è mami. Come hai detto? Dice, questo mi fa paura. E se glielo dice una ragazza di 20 anni a lei? E lei dice, scusi, come? Io ci sento, signora, ma io ci sento. Se non vengo scrivo, no. È una vecchia frase. Se non vengo scrivo. Signora Simonato, prendiamo le difese delle donne a questo punto. Ma suo marito è felice con lei? Quanti anni ha suo marito? Beh, mio marito adesso ne ha 83. È felice con lei? Sì, certo. Io vi ho visto una sera in un palco della Scala, mano nella mano, tutta l'opera. Beh sì, certo, non mi vergogno a dirlo.